Non c'è si può uscire oggi? Oh mamma mia, no, Lucarie, non si esce, capite che non si può? Ah, il decreto non l'ho creato io, l'ha creato il premier cont, perciò ti ha rassegnato, capite? Non si esce, non si esce, non si esce! Ah! Cioè io ti ho visto la mazzata in gara? Ma in maniera, ho domandato se si poteva uscire, come sei aspra, che cos'è? La quarantena ti ha fatto aspra? Conce, l'autocertificazione l'hai stampata, eh? Lucarie, in questo momento mi sono alzata, capite? Se credete che io mi debba vestire e fare la diretta a Instagram mi vesto, altrimenti ecco qua, noi ci mettiamo qua e aspettiamo gli ordini del signor Sergio Mattarella che è comandato. Non l'hai stampata, no, e ieri sera che ti dici, domani mattina fammi un piacere, stampo le foglie, prima mi fa un caffè, perché se no non posso uscire e andare a comprare la mucchina. Abbiamo capito, abbiamo capito, andiamo a stampare l'autocertificazione, se no qua non si ragione, stamattina mangiamo foglie, ecco qua l'autocertificazione l'andiamo a stampare, siete servite e riverite, noi andiamo a stampare l'autocertificazione. Si vecchio, congetto, si è fatto vecchio, si è fatto. Posso che magari da mettere in quarantena, tossisci in camere, non ne parliamo più, perché io ho paura, un e nilla che a casa o b, non posso migliorare responsabilità. Ma c'è mietta, ma c'è mietta, ma c'è mietta, ma c'è mietta, non vi preoccupate, ve lo tolgo il fastidio. Quella se vennà la mascherina mia prima che io moro, aspetta che muoio e poi te la vendi, no? Ma che cosa, Pasqua, ma chi è lui che è dispone? Che cosa significa? Se vennà a robare la casa, che ho paura? Tu sei mio fratello, la mascherina tua aspetta a me. Ma chi se l'ha da mettere sta mascherina? Chi? Ma mettetevi d'accordo. Misericordia, io mi trovo in mezzo agli appestati, mi trovo. Ma che giorno è oggi? Ma quanti giorni ci vogliono per Pasqua? Cinque giorni, Don Francesco, cinque giorni da oggi. Cinque giorni, Maschi, Maschi, Tilt, 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 Tilt. Buongiorno e buona domenica delle palme. Sono io, ancora io, l'aggettivo possessivo corrispondente al pronome di seconda persona plurale. Il vostro. All'inizio della pandemia non avrei scommesso su me stesso, e invece siamo giunti alla fine della terza settimana di emergenza e non ho ancora dichiarato l'indipendenza. Sto migliorando. Come previsto siamo arrivati al picco dei contagi, quello che non avevo invece immaginato è il picco dei randagi. Gente che vaga senza meta, che brancola per strada, che pascola nei giardinetti. Bestie. Ad Affragola uno dei fermati ha dichiarato che stava andando a comprare i battiscopa. Ad Affragola i battiscopa. Bene di prima cretinità. A Torre del Greco, invece, un non meglio identificato imbecille, ha pensato di avventurarsi in una passeggiata sulle pendenze vulcaniche del Vesuvio. È caduto in un burrone, è caduto l'imbecille, e siamo dovuti intervenire con un elicottero e due ambulanze. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, l'imbecille ha candidamente dichiarato che stava cercando gli asparagi. Per farsi un risottino. Stava cercando gli asparagi. Lo chef stellato. Abbiamo Carlo Cracco del Vulcano, abbiamo. Voleva gli asparagi selvatici. E li avrà per sempre, li avrà. Oltre alla quarantena obbligatoria, sarà sottoposto a regime di dieta selvatica 4. Dovrà mangiare solo asparagi, mattina, mezzogiorno e sera. La vera goduria è stata installargli un espansore nasale che gli impedirà di tapparsi il naso nell'espletare le sue funzioni renali. Da altre parti del regno mi arrivano invece notizie, se possibili, ancora più sconcertanti. Un non meglio identificato vescovo di Nocera ha dichiarato che nella settimana santa ha intenzione di aprire tutte le chiese per i festeggiamenti. I festeggiamenti per la Meronna. Non solo vi chiudo le chiese, ma è la volta buona che vi chiudo pure questa insopportabile. E' aperta, Nocera. Altro che inferiore e superiore, Nocera interiore vi faccio diventare. Due settimane fa il problema erano le zeppole di San Giuseppe. Adesso sono le pastiere di Pasqua, sono. Non avete capito che se non rigate dritto se ne parla a Natale, se ne parla. Altro che zeppole e pastiere. Accoglieremo il nuovo anno con un nuovo piatto tipico. festeggeremo il Capodanno con tampone e lenticchie, festeggeremo. Vi dovete cioncare a casa, chiudere dentro, ma non solo in senso letterale. Se andiamo avanti così emanerò un'ordinanza per cui ognuno di voi sarà obbligato a chiudersi in sé stesso. Altro che popolo allegro, solare. Un popolo introverso vi faccio diventare. So che la situazione sta diventando pesante, insostenibile e che molti si stanno rifugiando nell'intrattenimento audiovisivo. Ma c'è bisogno di responsabilità in tutti i settori ed è per questo che ho appena firmato un'ordinanza. Per cui da questa settimana saranno vietate le visioni dei seguenti titoli. Ragazzi fuori, un posto al sole, fuga per la vittoria, fuori in 60 secondi e la febbre del sabato sera. È stato invece necessario intervenire sulla nomenclatura di alcuni altri titoli, ma sarà ancora permesso vedere i seguenti film. Una voltrona per casa, prendi i soldi e resta, mamma ho perso il tampone, resta a casa a lessi, la mascherina di ferro. Non è un paese per runner. E per finire, le vie del signore sono chiuse. So però che alcuni di voi sono dotati di connessioni medioevali, in rame. No, in Campania no. Con questi amici stiamo provvedendo alla completa cablatura a mezzo fibra del sacro campano impero. Toffete. Adesso vi lascio, mi hanno messo la fibra e mi devo rivedere il mio film preferito. Non aprite quella porta, a ribuffato.